Avola ha eseguito un ordine di detenzione domiciliare emanato dal Tribunale di Sorveglianza. Nella serata di ieri, il gendio del commissionato di Avola ha eseguito un ordine di detenzione domiciliare emanato dal Tribunale di Sorveglianza presso il distretto della Corte d'Appello di Catania a carico di un avolese di 32 anni. L'uomo deve ancora scontare una pena residua di un anno, 9 mesi e 19 giorni per avere commesso un'attentata rapina nel marzo del 2016 con conseguenti lesioni e porto illegale di armi.